Le volevo soltanto chiedere, però mi deve dare una risposta flash, se effettivamente l'opposizione resterà unita nel compreso Forza Italia, che è un po' oscillante, sul no al MES, riforma e uso del salva stati, se questo sarà mai scritto. Noi siamo convinti che alla fine, nonostante qualche sensibilità diversa, il centrodestra resterà unito su questo tema e non solo su questo. E non vi asterrete, voterà no? No, noi siamo convinti, ha già parlato Berlusconi, ha già parlato Salvini, ha già parlato Rameloni, ha già parlato Tagliani, quindi non vedo perché non si debba avere questa certezza che il centrodestra resterà unito. Va bene, pubblicità, grazie ai nostri ospiti di questa pandemia di trasmissione, arriva Zio Mauro.